Il Papa ha tenuto anche oggi l'udienza generale in piazza San Pietro, svolgendo la sua catechesi sul tema Lieti nella speranza, a partire da un passo della lettera di San Paolo ai Romani. Il Papa ha rivolto un pensiero speciale ai lavoratori di Sky Italia, auspicando che la loro situazione lavorativa possa trovare una rapida soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. Il principio di libertà di coscienza vale per tutti. Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma è intervenuto di recente in merito al caso del bando dell'ospedale San Camillo, riservato soltanto ai non obiettori di coscienza. È un dovere etico e deontologico tutelare l'obiezione di coscienza. L'intervista. Hashtag Stand Together, un progetto per rafforzare la cultura del dialogo e della pace attraverso un'azione ecumenica e di condivisione della straordinaria testimonianza delle minoranze religiose cristiane. A partire dal sito web allstandtogether.com raccoglie e rilancia notizie e storie provenienti da agenzie, associazioni, enti o ng, come ci racconta il direttore generale dell'agenzia di notizie Rome Report. Il Papa ha tenuto anche oggi l'udienza generale in piazza San Pietro svolgendo la sua catechesi sul tema Lieti nella speranza, a partire da un passo della lettera di San Paolo ai Romani. Commovente il saluto con alcuni pellegrini cinesi presenti all'incontro. Sappiamo bene, ha esordito Francesco, che il grande comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quello di amare, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente e amare il prossimo come noi stessi. Cioè siamo chiamati all'amore, alla carità. E questa è la nostra vocazione più alta, la nostra vocazione per eccellenza. E ad essa è legata anche la gioia della speranza cristiana. Chi ama alla gioia della speranza di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore. L'Apostolo Paolo mette in guardia dal rischio che la nostra carità sia ipocrita e quindi che anche il nostro amore sia ipocrita. E il Papa ha proseguito. Ci dobbiamo chiedere allora quando avviene questa ipocrisia e come possiamo essere sicuri che il nostro amore sia sincero, che la nostra carità sia autentica, di non far finta di fare carità o che il nostro amore non sia una telenovela, L'ipocrisia può insinuarsi ovunque anche nel nostro modo di amare, ha detto Francesco. Questo si verifica quando il nostro è un amore interessato, mosso da interessi personali. La carità invece è anzitutto una grazia, un regalo. Poter amare è un dono di Dio e dobbiamo chiederlo. E Lui lo dà volentieri se noi lo chiediamo. La carità non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente accogliamo. Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori e che anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello stesso tempo però si fa portatore di un annuncio nuovo, un annuncio di speranza. Il Signore apre davanti a noi una via di liberazione, una via di salvezza e la possibilità di vivere anche noi il grande comandamento dell'amore, di diventare strumenti della carità di Dio. E questo avviene quando ci lasciamo guarire e rinnovare il cuore da Cristo risorto. È Dio stesso che, ha ricordato il Papa, prendendo dimora nel nostro cuore e nella nostra vita, continua a farsi vicino e a servire tutti coloro che incontriamo ogni giorno sul nostro cammino, a cominciare dagli ultimi e dai più bisognosi nei quali Lui per primo si riconosce. L'Apostolo Paolo, allora, con queste parole, non vuole tanto rimproverarci quanto piuttosto incoraggiarsi e ravvivare in noi la speranza. Tutti, infatti, facciamo l'esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell'amore. Ma anche questa è una grazia perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare veramente. Abbiamo bisogno che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel nostro cuore attraverso l'esperienza della sua infinita misericordia. Il Papa ha concluso la sua catechesi ricordando che, quanto detto dall'Apostolo Paolo, è il segreto per essere lieti nella speranza. Con il cuore visitato e abitato dalla sua grazia e dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto che riceviamo ogni giorno dal Signore. Al termine dell'udienza generale, il Papa ha rivolto un pensiero speciale ai lavoratori di Sky Italia, auspicando che la loro situazione lavorativa possa trovare una rapida soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. Quindi ha aggiunto Un pensiero speciale rivolgo ai lavoratori di Sky Italia e auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare una rapida soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. Il lavoro ci dà dignità e i responsabili dei popoli, i dirigenti hanno l'obbligo di fare del tutto perché ogni uomo e ogni donna possa lavorare e così avere la fronte alta, la fronte guardare in faccia agli altri con dignità. Chi per manovre economiche, per fare negoziati non del tutto chiari, chiude fabbriche, imprendimenti lavorativi e toglie il lavoro agli uomini questa persona fa un peccato gravissimo. La tutela del principio di libertà di coscienza vale per tutti sia per chi la esercita sia per chi opta di non esercitarla. In merito al caso del bando dell'ospedale San Camillo riservato soltanto ai non obiettori di coscienza il presidente dell'ordine dei medici di Roma è intervenuto con una lettera aperta per puntualizzare le dichiarazioni precedenti strumentalizzate. Ormai sono passate un paio di settimane è passato del tempo una riflessione a freddo l'obiezione di coscienza è una questione dei cattolici? No, assolutamente io credo che non sia affatto una questione di carattere fideistico è una questione di carattere civile che è preservata dalla deontologia medica che non ha radici cattoliche è una evoluzione dei principi e dei valori che il codice deontologico preserva e custodisce da oltre 2500 anni quindi immaginare di proiettare su questo principio questioni di mero carattere fideistico semplicemente essere fuori dalla realtà e non era certo nelle intenzioni mie che mi sono espresso in maniera così chiara per cui era impossibile stravolgere o addirittura capovolgere il senso di ciò che io ho sostenuto il fatto che si ricorra a una tale forzatura gestionale e amministrativa conculcando un diritto inalienabile all'arma chi ha il dovere di tutelare la professione medica nei suoi aspetti fondamentali della bioetica e della deontologia che sono ad esclusiva garanzia della comunità sociale con queste parole il presidente dei medici di Roma si era espresso in un comunicato in merito al concorso previsto soltanto per i non obiettori giudicato discriminatorio ha voluto puntualizzare quello che non ha funzionato in questo bando in che cosa è stato violato il diritto la libertà dei medici e la loro deontologia si questo era il dato centrale del mio intervento io sono intervenuto a tutela del principio di libertà di coscienza dei medici che riguardava sia gli obiettori sia i non obiettori anche i non obiettori hanno il diritto di poter cambiare opinione laddove la loro coscienza glielo indichi quindi io su questo sono sereno spero che lo siano anche coloro che hanno ritenuto di strumentalizzare capovolgendo il significato di tutte le cose che io inequivocabilmente e purtroppo sono state equivocate ho affermato quindi ripeto sono veramente tranquillo per quanto riguarda poi gli effetti delle procedure concorsuali io l'ho già detto in altre occasioni io ritengo che a questo punto valga molto il diritto soggettivo dei colleghi che comunque hanno visto coronare una stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro e quindi quella situazione lì va sanata nel modo più tranquillo e sereno possibile l'importante è che non accada più che si formulino bandi per assunzione di medici dirigenti e dipendenti del servizio sanitario nazionale nei quali anche antigiuridicamente oltre che antideontologicamente si conculchi la libertà di riserva del principio e del diritto di libertà di coscienza questo non si può e non si deve toccare hashtag stand together è un progetto per rafforzare la cultura del dialogo e della pace attraverso un'azione ecumenica e di condivisione della straordinaria testimonianza delle minoranze religiose cristiane il progetto vede insieme diverse istituzioni cattoliche tra cui comunione e liberazione per dare voce ai cristiani perseguitati valorizzare l'importanza della libertà religiosa e il ruolo fondamentale che le comunità cristiane seppure minoritarie ricoprono in molti paesi quali fonti di stabilità fede e creatività stand together si articola attorno a un sito web allstandtogether.com finalizzato alla raccolta e rilancio di notizie e storie provenienti da agenzie associazioni enti o ng come ci racconta il direttore generale dell'agenzia di notizie rom report stand together diverse realtà cattoliche insieme per rafforzare la cultura del dialogo rafforzare la cultura del dialogo e difendere i cristiani perseguitati i cristiani perseguitati di Medio Oriente e di molti posti del mondo possono aiutare a noi i cristiani di altri paesi a imparare coraggio imparare fede imparare una capacità di convivere di sofferenza e questo è un progetto che è nato per il sostegno dei cristiani perseguitati e di tutti quelli che lavorano con loro e non cerchiamo di aggiungere una nuova realtà e cerchiamo di valorizzare il lavoro che fanno tutte le realtà cattoliche per l'aiuto per l'aiuto dei cristiani perseguitati sono stato in Libano il mese scorso ho potuto guardare la realtà di che si trova un Stato che non ha la capacità di gestire a tanti rifugiati a tanti profughi siriani e iracheni e di là ci sono molte realtà della Chiesa che lavorano che lavorano per l'aiuto per il sostegno di tutta questa gente e noi cerchiamo di valorizzare questo lavoro e anche di condividere le notizie le notizie che noi dell'agenzia Rom Reports facciamo ma anche di altre agenzie di altri giornali di telepazze di qualsiasi mezzo o qualsiasi tv che fa un servizio sul cristiani perseguitati noi cerchiamo tramite facebook tramite social media twitter di rilanciare tutta questa informazione alzare la voce penso che a questo punto è importante alzare la voce di quelli che sono perseguitati medio oriente ma non solo ci sono tante situazioni nella chiesa che sono poco conosciute sì questi ultimi giorni abbiamo parlato un'altra volta della situazione di Asia Bibi di questa donna a Pakistan che per la verità ha sofferto una doppia persecuzione per essere donna e anche per essere cristiana questo è un progetto anche ecumenico non è soltanto cattolico partecipano molte istituzioni cattoliche ma pensiamo come spesso dice Papa Francesco che la sangue dei martiri ci fa più uniti tutti i cristiani siamo lo stesso con il martirio di fronte al martirio in tutto il mondo il problema adesso è più importante o più noto in Medio Oriente ma dobbiamo parlare anche della Nigeria Egipto ci sono altri paesi dove la persecuzione è una realtà il sistema sanitario italiano conosce l'organizzazione aziendale sappiamo bene che ormai gli ospedali vengono chiamate aziende sanitarie poco male di per sé se questo vuol dire un'allocazione oculata delle risorse ma se il sistema aziendale significa il produrre profitto a spese della persona malata questo deve renderci molto attenti vigilanti e farci riflettere il malato è un cliente l'azienda deve far quadrare i bilanci e il bisogno della persona rischia di essere tenuto non nella dovuta considerazione bene ha fatto il santo padre incontrando la pastorale della salute in Italia a richiamare una allocazione etica e solidale delle risorse sanitarie disponibili certamente lo spreco non può essere tollerato soprattutto quando questo spreco è fatto a danno delle persone malate delle persone che hanno bisogno di cura ma se lo spreco non può essere tollerato non deve essere neanche tollerata l'incuranza dei bisogni dei malati stessi non può essere il censo ciò che determina la possibilità di farsi curare più o meno ecco allora che accogliamo questo sistema aziendale anche nel campo sanitario purché non produca come ha detto il santo padre degli scarti umani prima pagina dell'osservatore romano con la data del 16 marzo 2017 all'udienza generale il monito del pontefice e l'appello ai governanti affinché promuovano l'occupazione chi sottrae lavoro commette peccato gravissimo le poste in gioco nel voto olandese test per l'identità europea dallo scoppio della guerra civile il 15 marzo 2011 la Siria resta un paese dilaniato dalle violenze sei anni di distruzione dai combattimenti nel sud Sudan un milione e mezzo di persone in fuga di solenfруго per l'', capo di solenfactor di solenfactor di solenfactor